Il Garden Theatre torna alla grande con questo spettacolo di una ventina di minuti si chiama Nautilus, carino, si va per Giurus Fern, si va per 20.000 leghe sotto i mari si va per Atlantide, c'è una citazione a Fuga d'Atlantide, c'è la statua storica di Fuga d'Atlantide sempre spettacolo di offerti da Grana a Padano spettacolo carino, mezzo musical, mezzo recitato c'è la voce di ODS, non so se sia lui, se è in playback se è un attore che parla come lui, che diceva come lui, sembra l'attore che ha fatto anche la scenetta western e lo spettacolo è molto carino, va bene per il Garden Theatre, cioè per il teatro che in teoria è il più importante però mi viene da pensare, mi viene da pensare se fosse stato fatto per il teatro 3D, una cosa dove ti sceghera, ti sceghera potrebbe essere molto molto figo grazie a tutti